il viandante che andava lungo il biviere di lentini teso là come un pezzo di mare morto e le stoppie riarse della piana di catania e gli aranci sempre verdi di franco fonte e i sugheri grigi di resecone e i pascoli deserti di passaneto di passanitello se domandava per ingannare la noia della lunga strada polverosa sotto il cielo fosco dal caldo nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria qui di chi è sentiva rispondersi di mazzarò e passando vicino a una fattoria grande quanto un paese coi magazzini che sembrano chiese e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava e qui di mazzarò e cammina e cammina mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano immobile come gli pesasse addosso la polvere e il guardiano straiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse di mazzarò poi veniva un uliveto affolto come un bosco dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo erano gli ulivi di mazzarò e verso sera allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza si incontravano le lunghe file degli aratri di mazzarò che tornavano ad agio ad agio dal maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura e si vedevano nei pascoli lontani della canziria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandre di mazzarò e si udiva il fischio del pastore e che giare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì e ora no e il canto solitario perduto nella valle tutta roba di mazzarò pareva che fosse di mazzarò perfino il sole che tramontava e le cicale che ronzavano e gli occhi che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle e il sibilo dell'assiolo nel bosco pareva che mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia invece egli era un omiciattolo diceva il lettighiere che non gli avreste dato un baiocco a vederlo e di grasso non aveva altro che la pancia e non si sapeva come facesse a riempirla perché non mangiava altro che due soldi di pane e sì che era ricco come un maiale ma aveva la testa che era un brillante quell'uomo infatti con la testa come un brillante aveva accumulato tutta quella roba dove prima veniva da mattina a sera a zappare a potare a mietere col sole con l'acqua col vento senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano né per questo egli era montato in superbia adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore ma egli portava ancora il berretto soltanto lo portava di seta nera era la sua sola grandezza e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro perché costava meno del berretto di seta nella roba ne possedeva fin dove arrivava la vista ed egli aveva la vista lunga dappertutto a destra e a sinistra davanti e di dietro nel monte e nella pianura più di 5.000 bocche senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra che mangiavano sulla sua terra e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio ingozzato in fretta e in furia all'impiedi in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa in mezzo alla polvere del grano che non ci si mentre i contadini scaricavano i sacchi o a ridosso di un pagliaio quando il vento spazzava la campagna gelata al tempo del seminare o con la testa dentro il corbello nelle calde giornate della messe egli non beveva vino non fumava non usava tabacco e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume con le foglie larghe e alte come un fanciullo di quelle che si vendevano a 95 lire non aveva il vizio del gioco né quello delle donne di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre la quale gli era costata anche 12 tarì quando aveva dovuto farla portare al campo santo era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata nel mese di luglio a star con la schiena curva 14 ore col soprastante a cavallo dietro che vi piglia anerbate se fate dirizzarvi un momento per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano in novembre e altre file di muli che non finivano più portavano le sementi le donne che stavano accoccolate nel fango d'ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle e al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne e fin dove sentivasi cantare nella campagna era per la vendemmia di mazzarò alla messe poi i miei titoli di mazzarò sembravano un esercito di soldati che per mantenere tutta quella gente col biscotto alla mattina e il pane e l'arancia amara a colazione e la merenda e le lasagne alla sera ci volevano dei denari ammanate e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze perciò adesso quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi miei titoli col nerbo in mano non ne perdeva d'occhio uno solo e badava a ripetere curviamoci ragazzi egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a mazzarò gli veniva la febbre ogni volta però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto e ogni volta che mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare il denaro tutto dodici tarì d'argento che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o gli altri e alle fiere gli armenti di mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade e ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare e il santo con la banda alle volte dovevano mutar strada per cedere il passo tutta quella roba se fatta lui con le sue mani e con la sua testa col non dormire la notte col prendere la febbre dal batticuore e dalla malaria con l'affaticarsi dall'alba alla sera e andare in giro sotto il sole sotto la pioggia con logolare i suoi stivali e le sue mule egli solo non si logolava pensando alla sua roba che era tutto quello che avesse al mondo perché non aveva né figli né nipoti né parenti non aveva altro che la sua roba quando uno è fatto così vuol dire che è fatto per la roba e anche la roba era fatta per lui che pareva ci avesse la calamita perché la roba vuol stare con chissà tenerla e non la ciupa come quel barone che prima era stato il padrone di mazzarò e l'aveva raccolta per carità nudo e crudo nei suoi campi ed era stato il padrone di tutti quei prati e di tutti quei boschi e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro pareva il re e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si faceva sorprendere con le mani nel sacco costui vuole essere rubato per forza diceva mazzarò e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani borbottando chi è minchione se ne stia a casa la roba non è di chi l'ha ma di chi la sa fare invece egli dopo che l'ebbe fatta la sua roba non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messa o la vendemmia e quando e come ma capitava all'improvviso a piedi o a cavallo della mula senza campieri con un pezzo di pane in tasca e dormiva accanto ai suoi covoni con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe in tal modo a poco a poco mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone e costui uscì prima dall'uliveto e poi dalle vigne e poi dai pascoli e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo il stesso che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate e mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce al padrone non era rimasto altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere dicendo a mazzarò questo solo di tutta la mia roba non fa per te ed era vero mazzarò non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato due baiocchi il barone gli dava ancora del tu ma non gli dava più calci nel di dietro questa è una bella cosa da avere la fortuna che amazzarò diceva la gente e non sapeva quel che c'era voluto ad acchiappare quella fortuna quanti pensieri quante fatiche quante menzogne quanti pericoli di andare in galera e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte meglio di una macina del mulino per fare la roba e se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela e voleva prendere per il collo mazzarò doveva trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare malgrado la diffidenza contadinesca e gli andava a vantare per esempio la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini e arrivava a fargliela credere una terra promessa sinché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto per specularci sopra e ci perdeva poi il fitto la casa e la chiusa che mazzarò se la chiappava per un pezzo di pane e quante seccature mazzarò doveva sopportare i mezzatri che venivano a lagnarsi delle malannate i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada colpigliarsi il muro l'asinello che non avevano da mangiare lo vedete quel che mangio io rispondeva lui pane e cipolla e sì che ho i magazzini pieni zeppi e sono il padrone di tutta questa roba e se gli domandavano un pugno di fave di tutta quella roba e diceva che vi fare che l'abbia rubata non sapete quanto costano per seminarle e zapparle raccoglierle e se gli domandavano un soldo rispondeva che non l'aveva e non l'aveva davvero che in tasca non teneva mai dodici tarì tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba e il denaro entrava e usciva come un fiume dalla sua casa del resto a lui non viene importava del denaro diceva che non era roba e appena metteva insieme una certa somma comprava subito un pezzo di terra perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re ed essere meglio del re che il re non può né venderla né dire che è sua una cosa sola gli doleva che cominciasse a farsi vecchio e la terra doveva lasciarla là dov'era questa è un'ingiustizia di dio che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba quando arrivate ad averla che ne vorresti ancora dovete lasciarla e stava delle ore seduto sul corbello col mento nelle mani a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia e se un ragazzo seminuto gli passava davanti curvo sotto il peso come un asino stanco gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava guardate che ha i giorni lunghi costui che non ha niente sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba e pensare all'anima uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e strillava roba mia vientene con me ammazzando a colpi di bastone le sue